Ormai ci siamo davvero. Il prossimo 5 di giugno torneranno ad aprirsi le porte del liceo classico onorato Fascitelli di Isernia. La storica sede in Corso Garibaldi dopo un lungo e complesso iter di ripristino finalmente viene restituito alla città e agli studenti. Ormai superate le polemiche per il protrarsi dei tempi della ristrutturazione, ora quel plesso viene riaperto in conformità di moderni ed efficaci standard antisismici. In proposito le parole del presidente dell'ente provincia Lorenzo Coglia. L'istituto lo apriremo il 5 di giugno, abbiamo avuto finalmente tutte le autorizzazioni dai Vigili del Fuoco a Asrem, Comune di Isernia e abbiamo un istituto che è stato adeguato sismicamente con un metodo tra l'altro innovativo che è stato utilizzato dopo il terremoto dell'Aquila, metodo CAM si chiama, cuciture attive per la muratura, sono praticamente dei nastri di acciaio che imbrigliano e impacchettano tutta la muratura per evitare che in caso di sisma si rompano i muri e ci sia il crollo. Finalmente riapriamo questo istituto che è l'istituto più a sud che serve per ricollegare il centro storico alla parte nuova della città, rivitalizzando così Corso Garibaldi con una popolazione scolastica che oggi è distribuita sugli altri quattro istituti rimanenti, sui sei che abbiamo in provincia di Isernia perché stiamo ristrutturando anche il liceo e l'istituto magistrale di Isernia e con alcune difficoltà perché poi mano a mano scopriamo che ci sono da fare altri lavori, altri finanziamenti e oggi la difficoltà appunto dei finanziamenti. Poi ci sarà ancora da adeguare il Fermi e l'istituto alberghiero di Agnone ma lì c'è un problema di risorse, i finanziamenti pare che siano stati dirottati anche quelli del 2016, tutti quanti nel 2017, aspettiamo che il miur ci dia la garanzia della certezza dei finanziamenti.